Provincia in prima commissione alla Regione, non c'è traccia della legge. Nello scorso vertice di giugno alla Regione, tra il Presidente, i segretari regionali e i capigruppo all'Ars dei partiti di maggioranza, si era presa una decisione solenne. La legge sulle province doveva essere approvata in commissione entro la fine di luglio, in modo da poter arrivare all'approvazione definitiva in aula nel mese di settembre. Oggi è il primo di agosto e luglio si è concluso. In prima commissione non c'è traccia della legge sulle province. Sappiamo che vi è ancora qualche giorno prima che l'Ars chiuda per le ferie estive e non vorremmo mettere per mura, ma forse nel comunicare le prossime decisioni solenni andrebbe utilizzata la parola circa. Eppure, in un incontro della settimana scorsa del Presidente Schifani con i partiti della sua maggioranza, era stata presa la decisione di approvare a luglio in commissione e a settembre in aula il disegno di legge sulle elezioni dirette delle province. Ma sembra che sia scoppiata un'ulteriore polemica sull'eventuale data nella quale votare e tutto resta fermo. Forse serve con urgenza un altro incontro e una dotazione supplementare di responsabilità. Grazie.